buona protezione di grande azione da parte di Decelli Decelli è steso giallo inevitabile per Stendardo grande azione di Decelli si Decelli è che si è quasi costretto a fare questo tipo di messa è affidata ancora a Candreva scambio con Conco di nuovo Conco insiste Conco, cerca il fondo la mette in mezzo, ha fermato Marchese Antonelli Girardino anticipato da Biava Decelli ancora Decelli e se ne va da solo l'ex Juventino, lo insegue le Desma ancora Decelli, Sculli dall'altra parte sta arrivando Sturaro scambio di Sturaro Beriscia non è andato in salto Esciarawi, Vucinic comodo il passaggio per la velocità di Giaccherini inseguito da Boateng Giaccherini Vucinic che lascia perché sta arrivando Decelli e Vucinic e la Juventus scambio con Vidal cerca lo spazio per il post col sinistro poi va sul destro contro Guarente riesce a crossare ma è poco preciso Decelli si impegna e tiene in campo il pallone resta viva l'azione d'attacco della Juve il turno di Decelli che supera Alvarez e crossa con il destro Giorrente ricomincia da Decelli tra gli applausi subito lo Juventus Stadium ancora Decelli che va a riprendere la posizione sinistra coperta la sua avanzata da Bonucci che è tornata in posizione Decelli cerca a cordoio per Vucinic Vucinic ancora per Decelli c'è un banco per non andare Chiar che è ritardo la mette dentro Decelli e la palla buona fa l'azione grande giocata di Marchisio palla che arriva Giaccherini c'è largo Decelli la manovra della Juve che va ad avvolgere l'avversario come sempre Pirlo toccò largo proprio per Decelli Novara tutto dietro eccolo il cross non è che filtra Pappé controllo del numero 3 della Juve l'apertura per Decelli duello con Abasta lo punta Decelli e le fitte a disorientare il servo a palla sottoporta anticipato il tocco di Madri Giovinco Marchisio Decelli arriva il traversone di Decelli è sicuro con le mani Decelli per Tazzidis riceve poi scambia il cross questa volta di Decelli e Gilardino prolifico questo attaccato ha fatto un grande lavoro tanto Pirlo il suo calcio di punizione nel Bucchio il palo salva Sorrentino bisogna Tiro Pirlo anche lui stesso per Vidal ma il team si è ricompattato per evitare il tiro in porta allora Piro deve andare in fascia sceglie la sinistra Decelli area di rigore Decelli di sorprendere il portiere invece ha avuto una grande reattività Poli contro Giovinco già almeno due palle gol nitide per lui l'apertura per Decelli al volo di sinistra